Sensi che si dichiarano, il nostro tesoro più prezioso, non si cela fra le nostre cosce, ma nel nostro essere più profondo. Giovedì sera è la prima del film I fiori del male con l'interprete principale Flora Vona. Come ci si sente in questo ruolo prima di tutto? Ma sicuramente sono molto emozionata e adrenalinica perché sono nella mia terra. Non so se tu sai, io praticamente ho avuto tutto un escursus mio formativo lì in Sicilia, a Palermo, dove sono stata ben dieci anni, anzi undici anni. Quindi ritornare qui a Napoli ci sono stata due anni fa per lo spettacolo di Maurizio Casagrande, anche l'occhio vuole la sua parte, e poi sono ritornata adesso per la prima appunto del film che volevo proprio che avvenisse qui. Un ritorno alle origini e in questo film interprete tre donne completamente diverse una dall'altra. Qual è stata la difficoltà nell'interpretare queste tre donne? Allora guarda, non è stato facilissimo perché stiamo parlando di tre donne della storiografia, quindi tre donne realmente esistite, Veronica Franco della Venezia Rinascimentale, Margherita Gauthier, la celebre signora delle Camelie, ammalata purtroppo di Tisi e poi rinuncerà insomma al suo amore, ma non vado oltre, anche se un po' tutti conoscono la sua storia, la celebre storia. E poi c'è in ultimo Amatari. Amatari, sì, perfetto. Ma devo dire che insomma tutti e tre i personaggi sono stati pregnanti, è stata una full immersion sia emotiva che psicologica. Ho amato tutti e tre i personaggi, mi sono calata nei panni di Veronica Franco che è una donna molto romantica e soprattutto una sentimentale. E devo dire che questo aspetto mi rispecchia particolarmente perché sono anch'io un po' così. Ti vedremo anche in tutte le sale cinematografiche d'Italia? All'Ambasciatori di Napoli, al Cinema Art, per tutta la settimana, sempre allo stesso cinema e anche al Big di Caserta, ci sarà la proiezione appunto del film in diversi orari. E anche a Roma, Milano, Ciampino e Palermo. In bocca al lupo. Crepi.